Buongiorno, io mi chiamo Claire Mulroney, sono la direttrice dell'English ABC e gestiamo un asilo nido a scuola materna a Quartu, Chatterbox, dove lavoriamo direttamente con bambini 06 in inglese, quindi facciamo tutto direttamente in inglese, è una metodologia abbastanza innovativa che permette ai bambini di crescere bilingue perché sentono solo l'inglese a scuola, solo l'italiano e altre lingue, ovviamente a casa. Come società siamo sempre alla ricerca di persone educatrice e insegnante per la primaria che hanno i orizzonti larghi e piacerebbe un'esperienza definitiva o anche un stage, un tirocinio da noi. Ovviamente c'è la possibilità di migliorare e mettere in pratica le vostre inglese, però abbiamo anche nei anni avuto docente molto brava che potevano tranquillamente lavorare direttamente in altre lingue e quello ci interessa sempre. Quindi, come detto, è un'occasione sia di mettere un po' di pratica linguistica o un po' di pratica diretta con i bambini 06. Niente, il nostro numero di telefono è 328 294 1492, altrimenti l'email è englishabcqse.com se volete sapere di più o se volete venire a trovarci, vedere come facciamo e se potrebbe spesso un'esperienza interessante. Ok, grazie, un buon lavoro, ciao!